Continua il dibattito province sì, province no. Chiaro l'intentimento del governo regionale. L'ormai noto modello Sicilia sulla stampa nazionale ha portato alla ribalta anche questa tematica, su cui oggi interviene l'Associazione Nuova Galatea di Acireale, che con un comunicato stampa si esprime così. Accogliendo con interesse la possibile riforma proposta in questi giorni dal Presidente della Regione sull'abolizione della provincia e la conseguente creazione di liberi consorsi tra comuni e di aree metropolitane, ritiene fondamentale sottolineare, come già fatto in passato con varie campagne di sensibilizzazione sul tema, che Acireale non potrà e non dovrà sottrarsi dal suo ruolo di capofila di un libero consorzio di comuni, questo per storia, tradizioni, centralità all'interno del proprio comprensorio. Per le sue caratteristiche e la sua importanza non potrà neanche essere presa in considerazione un'eventuale ipotesi che la immagini parte dell'area metropolitana di Catania. Solo in questo modo Acireale potrà tornare a recitare quel ruolo di primo piano che le spette e che in passato ha avuto. E come non condividere questa posizione, aggiungiamo noi alla fine, il dibattito è aperto in attesa che anche Lars si esprime in tal senso.